Termineranno oggi le vaccinazioni alle isole Tremiti che saranno dunque covid free. È stato infatti allestito nella giornata di ieri nel poliambulatorio dell'isola di San Domino un presidio vaccinale mobile della difesa in collaborazione con la ASL di Foggia. Sono 135 le persone di età compresa tra i 18 e 59 anni che da programma hanno ricevuto ieri il vaccino. Altre 135 persone saranno vaccinate nella giornata di oggi. Si concluderà così la vaccinazione della popolazione delle isole Tremiti già avviata dall'ASL che nelle scorse settimane ha vaccinato con prima e seconda dose le 124 persone oltre a 60 anni residenti. Le somministrazioni sono state effettuate dal team sanitario della Marina Militare composto dall'ufficiale medico il sottotanente di Vascello Alessandra Zeni e dai sottoufficiali infermieri Giuseppe Zarone e Rocco Ricchetti con il supporto degli assistenti sanitari del servizio di igiene pubblica della ASL di Foggia. L'iniziativa rientra nell'ambito del recente piano di vaccinazione delle isole minori e dell'operazione EOS voluta fortemente al ministro della difesa l'onorevole Lorenzo Guerini e condotta con la regia del comando operativo di vertici interforze della difesa. L'attività è stata coordinata all'ufficiale coordinatore regionale per la Puglia e il capitano di Vascello Salvatore Mendicini. La campagna vaccinale di questi due giorni ha dichiarato il direttore generale dell'ASL di Foggia Vito Piazzolla ci permette di rendere bianche queste splendide isole ciò consentirà concluso un avvio sereno e in sicurezza della stagione turistica.